Allora, intanto buongiorno, buon pomeriggio, quando state ascoltando questo video? Anzi, ciao a tutti! Oggi, dalle ore 6 alle 17.30, non ci sarà Radio Muscretto perché? Vi chiedereste il perché? Vi dico io il perché? Perché mi si è otto il telefono ancora, io volevo dirlo, ma non sono riuscito a dirvelo perché dovevo installare l'applicazione YouTube su quest'altro telefono. Quindi oggi no Radio Muscretto ma domenica sì, quindi questa domenica Radio Muscretto ci sarà ma in realtà oggi, mercoledì, mercoledì 9 gennaio del 2019 no Radio Muscretto quindi grazie per aver ascoltato questo video quindi ci vediamo a domenica, quindi ciao oggi no Radio Muscretto, peccato però quindi ciao e a domenica ciao Ciao!